... Hai letto sul giornale del massacro di erisera? Certo si dice che Al Capone sia dietro a tutto questo. Non la pensa così. Al Capone. A vestire italiano con la cara cortata. Qualla è la gran marzana? Certo si dice Al Capone. Certo si dice Al Capone. Certo. Certo si dice Al Capone. 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 Certo si dice Al Capone.